Prosegue l'obbligo per i passeggeri delle navi pubbliche di rete ferroviaria di non poter sostare nei vagoni treno durante la traversata dello stretto. Le rappresentanze sindacale unitarie, sia autonome che confederali, tornano oggi a sottolineare che RFI non sia opposta alla direttiva della Capitaneria di Porto, comunicata mesi fa ed attuata dopo 115 anni di navigazione ferroviaria. Qualunque armatore privato che ha interesse alla produzione sarebbe intervenuto energicamente per contrastare la penalizzazione, sottolineano, ma se l'armatore è pubblico e si chiama RFI si esaurisce tutto in un incomprensibile silenzio. La nave Logudoru resta sequestrata, la stessa unità era già destinata al fermo nonostante le risorse pubbliche impiegate per la ristrutturazione, ma si è appreso che nel mercato non è facile recuperare materiale di ricambio. Secondo le rappresentanze di base per garantire un servizio essenziale ai siciliani, si chiede di rinunciare a un altro, smantellando il traghettamento ferroviario per dirottare risorse nel collegamento veloce, rivolto però solo all'utenza a piedi. L'RSU hanno attivato le procedure di raffreddamento con rete ferroviaria e restano in attesa di un incontro ufficiale.